Onorevole Pastorino, cosa non piace a voi di questa legge? Intanto, se mi permette, faccio una precisazione, perché l'intervento dello Stato in sede legale avviene soltanto per quanto riguarda un eventuale risarcimento del danno, quindi un processo di parte civile, non di parte penale, cioè la parte, diciamo, di processo penale, quindi le responsabilità circa l'effettiva sussistenza, legittima difesa o meno. Quindi quello è un capitolo che rimane scoperto. Per rispondere alla sua domanda, non mi piace in generale, perché la legittima difesa c'è già, mi può anche, diciamo, posso essere anche molto interessato all'aumento delle pene, alla certezza della pena, la cosa che mi piace di meno di tutti sono i toni. Sono i toni, perché questo è un tema che qualcuno lo fa incrociare con il tema delle armi, e questo è indubbio, e quindi le parole vanno sempre, secondo me, soprattutto da una persona che ha responsabilità pubblica e le parole vanno, diciamo, pesate per il giusto senso. Cioè, voglio dire, si può portare avanti un proprio pensiero di necessità di potenziare il concetto legittima difesa, però utilizzando dei toni che siano comprensibili, perché altrimenti la gente non capisce. Il tema delle armi è quello che diventa predominante in certi tipi di discussioni, ed è quello anche più pericoloso. Non si arriverà come negli Stati Uniti, però il tema c'è. L'abbiamo sentito nel servizio, il vicepremiere Salvini ha parlato di armi. In Italia, a dirla tutta, da settembre è entrato in vigore un decreto che dà la possibilità di aumentare la dotazione di armi ad uso sportivo, quindi voglio dire un piccolo passo in quella direzione c'è. Ma quello che, appunto, oltre a profili di merito, è anche il modo in cui si spiegano determinate cose, perché poi la gente, è vero, non si deve sostituire allo Stato, ma si sente talvolta autorizzata in ragione di gravi turbamenti, oppure della ricezione di messaggi, a farsi un po' giustizia da solo. E questo è il grosso rischio che vedo prima di tutti.